Un saluto da Dr. Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica qua in Moldavia. In questo video ti farò una masterclass completa che ti darà una panoramica chiara e precisa su quella che è l'implantologia non convenzionale. Se parliamo di implantologia non convenzionale, noi intendiamo tutte quelle procedure chirurgiche maxillofaciali che vengono eseguite quando non è più possibile eseguire implantologia convenzionale. Ti disegno quella che è una rappresentazione schematica di una mascella superiore, l'osso che tiene i denti superiori. Al di sotto degli zigomi noi abbiamo dei vuoti che si chiamano seni macellari. Nella porzione anteriore noi qua abbiamo il naso, la cavità nasale e delle volte quando il paziente perde i denti, l'osso da questa posizione in cui si trovava inizialmente dove c'erano le radici dei denti, andando a perdere le radici dei denti per esempio per causa parodontale va a perdere completamente anche questa porzione di osso. L'osso si avvicina a questo punto alle zone pavimenti dei seni macellari e dei seni nasali che sono quelle parti dove delle volte noi andiamo con l'intervento di chirurgia dei seni macellari a ricostruire l'osso, quindi aumentiamo il volume in queste zone con innesto dei seni macellari. Tra l'altro io ho fatto nel 2009 proprio la mia tesi di laurea su questo tipo di intervento e ho vinto anche il premio, la borsa di studio da cui poi è nato tutto con 2.500 euro, io me ne sono andato dall'Italia con questa borsa di studio e poi come una palla di neve è tutto diventato più grande in questa Moldavia. Nella parte inferiore abbiamo la mandibola che la mandibola poi con i condili è attaccata alla base cranica e nella parte inferiore stessa cosa, possiamo delle volte quando perdiamo i denti andare a perdere anche delle quote di osso. Nella mandibola le strutture delicate quali sono? Sono i nervi mandibolari, qua c'è un nervo, un fascio vascolo nervoso perché poi non c'è solamente innervazione ma c'è anche supporto dei vasi sanguigni, infatti è più corretto parlare di fascio vascolo, vascolare nervoso. Passa tutto dentro a questi fori ma delle volte quando l'osso si riassorbe in queste zone non abbiamo quasi più osso per poter mettere gli impianti dentali, stessa cosa accade sopra o facciamo la ricostruzione del seno macellare, per fare la ricostruzione del seno macellare però dobbiamo andare a vedere quella che è la distanza tra l'arcata superiore e l'arcata inferiore o meglio le due basi osse residue perché poi quando noi andremo a ricostruire i denti nell'arcata superiore e i denti nell'arcata inferiore chiaramente non dovremo solo ricostruire i denti ma anche questi per esempio sono i denti che noi andiamo a costruire anche questa parte qua che è la gengiva. Se la protesi che noi andiamo a montare supera in lunghezza magari la lunghezza dell'impianto dentale che noi andiamo a mettere è come se avessimo una barca con la vela alta 40 metri e una pinna sott'acqua di un solo metro, come fa la barca? Si accappotta no? Si rovescia? Stessa cosa in implantologia, se noi andiamo a mettere un impiantino col rialzo del seno macellare qua sopra corto ma poi abbiamo i denti lunghi o meglio non i denti, la protesi, c'è il rischio che questi denti flettono troppo e si vanno a creare dei problemi proprio qua nella zona di unione e di congiunzione con gli impianti. Questo è un limite da considerare, per questo decidiamo quando siete qua al policlinico che tipo di intervento fare, se fare ricostruzione del seno macellare oppure se andare verso la ricostruttiva con impianti non convenzionali. Questa premessa era doverosa per capire quando è che iniziamo a valutare l'implantologia non convenzionale. Là dove gli altri si fermano noi iniziamo. Qua in Moldavia noi andiamo a eseguire dei tipi di chirurgia, di implantologia non convenzionale. Là dove il dentista non riesce più con le classiche tecniche di chirurgia all on foro, all on six, andare a posizionare dei denti fissi. Noi abbiamo delle possibilità in anestesia generale con i nostri chirurghi maxillofaciali di andare a operare sul paziente con dei tipi di impianti dentali che in questa masterclass ti farò vedere. Facciamo adesso un passo indietro. Noi eravamo rimasti al nostro paziente che ha perduto completamente i denti, che deve andare a posizionare questa protesi quindi nuova nella parte superiore o inferiore, ma ci siamo resi conto che il seno macellare è ormai troppo vicino alla base ossea e non avrebbe senso mettere qua sopra un impianto dentale corto. In questi casi esistono delle tecniche chirurgiche che ci permettono di andare a posizionare i denti fissi in maniera molto più solida. Quella che molti di voi conoscono, la tecnica all on foro, all on six, dove si mettono per esempio con la tecnica all on six uno, due, tre, uno, due, tre, sei impianti dentali. Questi sei impianti dentali ai quali poi è avvitata la protesi necessitano di un osso di buona qualità in questa posizione, la pre maxilla. Non sempre ci ritroviamo in questa condizione. Delle volte i pazienti hanno il seno macellare per esempio che è molto anteriore, quindi si è molto anteriorizzato e se noi mettessimo un impianto per esempio qua anteriore al seno macellare non potremmo andare oltre con la protesi, ma dovremmo fare una protesi di massimo dieci denti, quindi una protesi abbastanza cortina. Capisci che qua la posizione del seno macellare più o meno anteriore determina poi il posizionamento degli impianti. C'è una nuova tecnica chirurgica, si chiamano impianti nasali e sono degli impianti molto resistenti dove l'impianto non viene posizionato in queste condizioni anatomiche anteriore alla cavità, si fora qua dietro una corticale, quindi una parte dura dell'osso, una seconda corticale che è la parte del guscio interno del seno macellare, l'impianto dentale si fa entrare dentro al seno macellare e si fa perforare anche questa altra corticale del seno macellare. È un impianto molto resistente intanto perché è lungo e secondo perché buca una, due, tre corticali e abbiamo una frizione molto molto intima e resistenza veramente alta e elevata di questi tipi di impianti. Questa tecnica chirurgica che prevede l'apertura del seno macellare, quindi si fa un foro qua che ci serve per vedere la pellicina da scollare, la pellicina che sta dentro al seno macellare, voi immaginate un uovo, quando voi lo aprite c'è una pellicina bianca all'interno dell'uovo, lo stesso noi dentro queste cavità dei seni macellari abbiamo una pellicina che va scollata e lì noi andiamo a posizionare questi impianti. Possiamo ricostruire o meno questa zona, l'importante non è ricostruirla ma è andare a incastonare l'impianto a livello della parete poi nasale. Questi primi impianti non convenzionali si chiamano appunto impianti nasali. Delle volte abbiamo necessità di andare più indietro coi denti e in questi casi noi abbiamo la possibilità di andare a sfruttare delle zone di osso che noi abbiamo qua sopra che si chiamano i processi zigomatici. Sicuramente se non hai osso, ti hanno detto altri dentisti che non hai osso, non si può fare più nulla, probabilmente il tuo è proprio un caso da impianti nasali o impianti zigomatici o come vedremo dopo un'altra categoria di impianti non convenzionali. Quando ti dicono che non c'è osso non vuol dire che non si può fare nulla, significa che non si possono mettere impianti convenzionali. Quando non si ha osso puoi mettere i denti fissi mettendo impianti che non necessitano di osso, quindi impianti che si mettono su zone specifiche della mascella superiore o della mandibola dove c'è un osso basale, un osso molto più duro che ci permette di andare a incastonare degli impianti differenti. Uno di queste basi osse è appunto il processo zigomatico. Noi andiamo a mettere invece che nell'osso della cresta mascellare, che si chiama quindi osso crestale, gli impianti zigomatici, gli impianti standard, gli andiamo a mettere degli impianti qua nell'osso zigomatico. Questi impianti che hanno poi un braccio qua di connessione verso la cresta si chiamano impianti zigomatici e permettono di andare a avvitare delle protesi e quindi fare delle protesi più lunghe nel caso che il paziente non ha più osso nella parte superiore. Questi tipi di impianti ci permettono di avere una forte stabilità perché hanno un impianto in un osso molto duro, molto compatto e un braccio di connessione che fa leva sulla cresta ossa e quindi quando il paziente mastica praticamente va a battere l'impianto sopra la cresta dove viene poggiato. La parte lavorante dell'impianto è questa alta, questa è solo una parte di connessione. Molti pazienti si preoccupano, dicono ma è un impianto molto lungo, non è un impianto lungo, la lunghezza dell'impianto è sempre la stessa, è un impianto praticamente come se questo fosse l'impianto, però siccome non deve stare in bocca l'impianto, non deve stare nella cresta ossea ma deve andare qua a livello dello zigomo, poi ha bisogno di un braccetto di raccordo, di connessione con i denti perché i denti stanno qua, l'impianto sta qua ma serve un raccordo che li unisca e questo è l'impianto zigomatico. Esiste poi un'altra tipologia di impianti dentali che si chiamano gli impianti pterigoidei. Gli impianti pterigoidei sono degli impianti che si mettono qua a livello del osso pterigoideo. Questa è la zona posteriore dove non c'è più osso e quindi c'è aria nel seno mascellare, in questa zona si mettono degli impianti dentali che si chiamano impianti pterigoidei che prendono proprio il nome della regione ossea dove vengono posizionati. Abbiamo quindi la possibilità di mettere degli impianti aggiuntivi qua nelle zone posteriori e unirli poi con la protesi. Se io dovessi quindi schematizzare, dunque andiamo a cancellare questo, ti rifaccio uno schema più semplice di quelle che sono le soluzioni che abbiamo. Questa è la mascella superiore, abbiamo detto che qua ci sono i seni macellari, un seno macellare qua, un seno macellare qua e qua la cavità nasale. Non abbiamo possibilità di mettere impianti dentali qua davanti perché l'osso non c'è più, c'è veramente poco osso qua e inoltre molto sottile. Abbiamo la possibilità di mettere impianti nasali, uno, due impianti nasali, se ci ho posto posso mettere anche degli impianti qua nella parte anteriore, magari inclinati, questi sono impianti standard. Possiamo mettere poi qua sopra abbiamo l'osso zigomatico, possiamo mettere degli impianti zigomatici che si vanno ad ancorare sull'osso zigomatico, ok? Questo è un altro impianto zigomatico. Poi abbiamo la possibilità di andare più dietro andando a posizionare in questa zona gli impianti pterigoidei. Questi tipi di impianti che ti ho fatto vedere qua sono i cosiddetti impianti non convenzionali. Non tutte le cliniche all'estero eseguono questi tipi di chirurgia. Diciamo che in genere si è abituati maggiormente alle tecniche all on for all on six, ovvero sono quelle tecniche che prevedono l'installazione di impianti dentali 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questa per esempio è la tecnica all on six. Delle volte però queste tecniche non ci permettono di mettere delle arcate dentali lunghe, ma dobbiamo fare per forza di cosa una dentatura molto più piccola, più stretta. Dove gli altri si fermano? Noi iniziamo. Abbiamo la possibilità di andare oltre con l'estensione delle arcate, fare delle arcate molto più complete, ma per questo ci occorrono degli interventi di chirurgia maxillofaciale che noi qua siamo specialisti nell'esecuzione. Se chi ti visita non fa anche questi tipi di intervento, fai attenzione che ti potrebbero proporre una tecnica all on for all on six, quindi una tecnica semplificata in una situazione anatomica invece che è più complessa, che invece necessita di un tipo di chirurgia superiore. Questo è uno dei motivi per cui noi mettiamo sempre in guardia dal scegliere studi dentistici che non eseguono tutti i tipi di chirurgia, compresa quella maxillofacciale, che permettono di risolvere con tecniche più avanzate, delle soluzioni quindi più solide, perché sono posizionati impianti in delle zone molto più resistenti, delle condizioni anatomiche che sono complicate. Nella parte inferiore invece abbiamo la possibilità di andare a fare gli innesti curi oppure a blocco dove viene ricostruito l'osso con un blocco e messi gli impianti dentali qua dove l'osso non era sufficiente, quindi andiamo a mettere degli impianti così più lunghi. Altra tecnica se non è quella di non ricostruire l'osso nelle zone posteriori, ma andare a mettere degli impianti corti, degli impianti più corti e più larghi. Tecnica valida, equiparabile, ma dovete sapere che comunque ci sono quando manca l'osso delle soluzioni alternative che sono impianti non convenzionali. Io sono Dottor Palmas e qui da Chisino ti faccio un saluto.